Facendo più gol, dando più assi, la squadra sicuramente sarà più alta in classifica. Grazie Piotro e Enzo da Ciampino per il mister. Buonasera mister. Senta, ma lei che idea si è fatta della situazione di Insigne? Cioè in che senso? Della situazione, della permanenza del contratto, di gioco lei lo conosce benissimo, tecnicamente non glielo devo dire, solo per sapere della situazione che si sta creando più che altro. Prima si debbono incontrare il Presidente e Lorenzo per parlare di situazione. Io sono convinto che due personalità così spiccate, quando poi si parleranno, troveranno qualsiasi esso sia un punto da dove poter ripartire. Per cui dobbiamo aspettare che avvenga questo incontro e poi sentire che cosa si dicono. è chiaro che l'occasione fa l'uomo ladro e i contratti e il calciomercato, il calciatore scontento o il calciatore distratto, per cui non cominciamo a fare troppi discorsi. Qual è il problema? Il problema però non ce n'è, si sono dati un appuntamento, problemi non ce ne sono, ci saranno dopo l'appuntamento, fino all'appuntamento, più che darsi un appuntamento che devono parlare che devono fare. Non possono fare altro in questo momento qui. Per cui ottimismo e pessimismo dipende da quello che tu ti racconti. Io sono ottimista, se tu poi te la racconti di traverso sei un pessimista. La situazione è più positiva possibile, sia per l'ambiente che per tutto il resto. La situazione è quella che si sono dati un appuntamento e bisogna sapere quella che è la risposta di quello che si diranno in questo appuntamento. Fino a quel momento lì è tutto mettere le mani avanti in base a quello che ognuno di voi vuole andare a parare, vuole andare a dire. Per cui aspettiamo questo momento.